Andiamo avanti con accogliere in rappresentanza del prefetto di fermo Vincenza Filippi, Andrea Di Tondo e Barbara Angelini. Abbiamo avuto l'onore e l'onere di portare i saluti del prefetto ad Alex. L'abbiamo fatto con piacere, devo dire la verità, perché abbiamo conosciuto Alex un annetto fa circa, ci ha molto sorpreso la sua semplicità, la sua discrezione, educazione e abbiamo avuto modo anche di dare un'occhiata al libro già che ha pubblicato e questa sua educazione si rispecchia nel libro. Il prefetto ovviamente è molto contenta di Alex che ha incontrato più volte, ci saranno sicuramente altre occasioni di incontro, ti manda tanti saluti, tanti auguri e bocca al lupo per tutto. Grazie e possiamo magari spostarci un attimino perché unitamente ai saluti del prefetto Vincenza Filippi abbiamo anche i saluti del capo di gabinetto della prefettura Alfonso Sadutto che sono in video. Possono partire, eccoci. Alex, un saluto a tutti i presenti, io sono Alfonso Sadutto, sono il capo di gabinetto della prefettura di Fermo e mi spiace tanto non poter essere lì fisicamente ma in questi giorni siamo impegnati con gli adempimenti connessi alle prossime consultazioni elettorali, però ci tenevo tanto a mandare un saluto in video e a portare con questo video il saluto del prefetto e i ringraziamenti particolari del prefetto per il lavoro, la collaborazione prestata da Alex Marais in occasione del concerto della banda della Polizia di Stato. Il dispiacere per non poter essere lì questa sera è sincero perché ho apprezzato fin dal primo momento il lavoro, il libro fotografico di Alex Marais, il suo sguardo delicato sulle persone, sul contesto ovviamente che ci circonda, il modo in cui raffigura la città di Fermo e credo che il suo libro sia davvero bellissimo, infatti ormai non ha confine, ha già raggiunto il Presidente della Repubblica, ha raggiunto Papa Francesco, non oso immaginare quali altre mete potrà raggiungere e merita di raggiungere. Veramente congratulazioni Alex, in bocca al lupo per tutto e ancora un grosso saluto. Bene, allora ringraziamo il dottor Sadutto in video e ancora il dottor Di Tondo, la dottoressa ancora Angelini, grazie mille per aver portato i saluti del prefetto Filippi. Andiamo avanti. Grazie a tutti.